Un libro tira l'altro di Salvatore Carrubba. Quest'anno l'appuntamento è particolarmente importante perché cade nell'ottocentocinquantesimo anniversario della nascita del Movimento Valdese che predicò il rinnovamento spirituale del cristianesimo grazie all'impulso di Valdo Mercante di Lione. Scomunicati e perseguitati i valdesi aderirono poi alla riforma protestante subendo ulteriori persecuzioni fino al riconoscimento nei loro confronti dei diritti civili da parte di Re Callalberto nel 1848. E proprio in questa data Fausta per il Movimento Valdese è uscito il primo dei quattro volumi della storia dei valdesi dedicato al periodo fra il XII e il XV secolo e curato da Francesca Tasca. L'opera è pubblicata da Claudiana, aggiunge ora conclusione dopo i volumi dedicati all'adesione alla riforma curato da Susanna Peyronel, al periodo finale emancipazione 1870 curato da Giampaolo Romagnosi e l'ultimo al periodo attuale fino al 1990 curato da Paolo Naso. I volumi hanno circa 700-800 pagine, sono illustrati e commentati e costano cada uno 64 euro. E sentiamo allora la curatrice del primo volume, Francesca Tasca, studiosa dell'esperienza valdese e insegnante a Bergamo. Buonasera Francesca Tasca. Buonasera a lei e a chi ci ascolta. Francesca Tasca, quest'opera di cui parliamo e questo primo volume è il primo tomo di un'impresa ambiziosa, la storia dei valdesi. Ecco, questa storia nasce più per far conoscere i valdesi a se stessi o per far conoscere i valdesi agli altri? A parte l'anniversario che vi ha spinto a quest'opera ambiziosa. Allora, io non ritengo che sia per forza necessario l'una o l'altra, quindi entrambe vanno a confluire queste motivazioni. Cioè, da una parte è un'opera rivolta sia al mondo valdese, perché è un aggiornamento importante rispetto all'ultima opera che era stata pubblicata 50 anni fa, per gli 800 anni dell'inizio del movimento, quindi con tanti aggiornamenti storiografici e tante riletture, revisioni, anche proprio già per l'interno del mondo valdese. Però non è solo per l'interno del mondo valdese, ma anche per chi valdese non è, quindi all'esterno, è anche un'opera rivolta all'esterno. E questo aspetto si può riconoscere anche nel fatto che all'opera hanno contribuito tanti studiosi, tante studiose che assolutamente non appartengono al mondo valdese, né per famiglia, né per fede, né per residenza nelle valli valdesi. Restiamo su questo punto delle valli. La geografia dei valdesi, lei spiega, si stende tra Lione e la Val Pragelato. Quanto ha inciso sulla storia dei valdesi questo spostamento del baricentro? Allora, lei correttamente indica quelli che sono i due estremi, cioè iniziali e per così dire terminali, ma non è corretto dire terminale, dei secoli medievali, cioè Lione e le vali, in particolare la Val Pragelato, dove vi è stata una crociata. In realtà, nel corso dei secoli medievali, la presenza valdese è attestata fino in Pomerania, fino in Calabria, in Catalonia, in Bohemia. Quindi, quei due fulcri sono, diciamo, l'input iniziale, il punto di abbrivio, e dove poi va a concentrarsi, a creare una sorta di roccaforte, se mi può passare questo termine. Però ci sono stati tanti altri insediamenti, tanti altri nuclei, proprio in questa diffusione, che qualcuno aveva chiamato diaspora, ma anche questo concetto viene messo un po' in discussione nell'opera. Lei spiega come le tracce documentarie dei primi periodi dei valdesi siano abbastanza scarse. Allora, che cosa si può dare per acquisito delle origini, dei primi sviluppi, anche alla luce di scoperte importanti che sono emerse, soprattutto negli ultimi anni, negli ultimi decenni? Sì, le fonti sono poche, come giustamente diceva lei, e sono, per la stragrande maggioranza dei casi, sono fonti prodotte da avversari. Quindi sono fonti che hanno finalità denigratorie, finalità di persecuzione, quindi profondamente deformate e deformanti. Tuttavia, è possibile, facendo una critica delle fonti solida, è possibile trovare degli elementi ispiratori dell'iniziativa di Valdo di Leone e delle prime generazioni valdesi e poi delle forme varie dei valdesi medievali. Quello che si può dare per acquisito, a mio avviso, è che l'impulso originario, la proposta originaria di Valdo è una proposta di rinnovamento apostolico, come del resto anche dice il titolo del volume. Cioè Valdo era veramente convinto di far ripartire da Leone, quindi da un'area urbana in sviluppo in quegli anni, di far ripartire l'annuncio apostolico secondo le modalità apostoliche, proprio seguiti alla lettera. Quindi andando in giro per il mondo a due a due, in povertà a predicare il Vangelo. Quindi questo sicuramente è quanto possiamo dire di acquisito. E lei sottolinea come l'importanza appunto del modello apostolico itinerante di cui ci ha appena parlato, in fondo sia più rilevante nell'identità originaria valdese del richiamo alla povertà, ancora più rilevante? A mio avviso sì, non è solo una posizione mia, è una posizione che è stata soprattutto difesa nel secolo scorso da Kurt Victor Selge, questo storico e teologo tedesco, che appunto ha sostenuto la centralità della missione apostolica rispetto al pauperismo, rispetto alla povertà, che veniva invece magari sottolineata più da storici di ambiente o di formazione cattolica. Perché la povertà è, per così dire, un accessorio dell'apostolo. E' un po', mi permetta, la sua divisa, non mi piace questa parola ma per intendersi, cioè è ciò che lo rende riconoscibile come apostolo. E' la garanzia, il suggello dell'apostolato, ma la povertà non è per se stessa, non si giustifica in se stessa. La povertà deriva dalla scelta apostolica e dal fatto di dedicarsi totalmente alla predicazione, all'annuncio e quindi non lasciandosi distrarre o comunque non lasciando che forze e energie importanti vengano sperperate, secondo l'idea di Valdo, in lavori manuali, in occupazioni del mondo, per così dire. Lei ricorda a un certo punto che sulle origini del movimento dei valdesi ci fu un aspro sconto tra le varie confessioni cristiane che si formarono subito dopo la riforma, quindi i cattolici e le altre confessioni protestanti. Come mai uno scontro di questa natura? Sì, dunque, le origini valdesi erano importantissime per il mondo, chiamiamolo, riformato, perché era l'antenato nobile, chiamiamolo così, a cui rifarsi per cercare di colmare quel gap che vi era tra il XVI secolo, quindi da Lutero in poi, e le origini apostoliche, quindi il vero cristianesimo. Quindi per cercare di colmare questi secoli che rimanevano scoperti, i valdesi divennero un anello preziosissimo in questa catena che poteva ricongiungere l'azione dei riformati del XVI secolo con le origini del cristianesimo antico. E in questo senso, quindi, ci si scontrò sulle origini valdesi, come giustamente anche lei diceva, cioè perché i riformati erano interessati a retrodatare quanto più possibile le origini valdesi proprio per arrivare a ricongiungersi con la chiesa anteriore all'imperatore Costantino o addirittura la chiesa apostolica. Mentre gli storici cattolici, al contrario, cercavano di spostare invece il più possibile, può sdatare in un certo senso invece le origini valdesi, per dire che in realtà non erano così antiche. Questo scontro, questo conflitto puramente confessionale dal XVI secolo in poi, anche nel XVII secolo fu molto forte, ha però costituito un fattore importante per la ricerca di fonti, per la ricerca di documenti e quindi ha aiutato in un qualche modo ad arrivare a ricostruire quella che era l'origine autentica. C'è un'immagine che a me piace molto che è quella delle sorgenti del Nilo, cioè per molto tempo le origini valdesi proprio perché è oggetto di questo conflitto sono state un po' avvolte nel mistero come le sorgenti del Nilo. Grazie a Francesca Tasca. Buona serata. Grazie a lei per lo spazio. Una sintetica presentazione della figura del fondatore del Movimento dei Valdesi è Valdo, l'eretico di Leone, di Grado Giovanni Merlo, la cui importanza è ricordata nel libro di Francesca Tasca, docente merito all'Università degli Studi di Milano, studioso di storia del cristianesimo. Questo volume è pubblicato da Claudiana, 126 pagine e 12 euro, e giunge la terza edizione. Merlo cerca qui di dare un senso alle informazioni che si possono raccogliere, vagliare e rielaborare razionalmente su una persona vissuta appunto centinaia di anni fa che merita di essere meglio conosciuta per superare i luoghi comuni, le fantasie e le invenzioni che pure intorno a Valdo si sono diffuse nei secoli. E quindi Merlo spiega di essersi soprattutto affidato alle testimonianze dei contemporanei, a particolare da quelle dirette di chi Valdo aveva conosciuto, testimonianze importanti perché Valdo in realtà non ci lasciò nulla di scritto. Un libro tira l'altro Ben ritrovati con Salvatore Carruba, avendo parlato di religione affrontiamo un tema profondamente connaturato alla religione, ma di interesse per tutti, anche per chi non crede, è il tema della meditazione, sulla quale esce un interessante volume pubblicato dall'edizione Kikai On della comunità di Bose, I sentieri della meditazione, vie cristiane, induiste e buddiste, scritto a molte mani, da Massie Bielavski, Patrick Goujon, Benoit Standard, Axel Bayer, Jean-Marie Guet, Pinuccia Caracchi, Francesco Sferra, Chiara Mascarello, Mauricio Jussin Marassi, Jacques Scheuer, dove troveremo religiosi, teologi, domenicani, gesuiti, esperti di sascrito, di cultura tibetana, di induismo, insomma molte culture che si incontrano in questo libro, che è poi curato da Matteo Nicolini Zani, monaco di Bose, coordinatore del gruppo italiano per il dialogo interreligioso monastico, 246 pagine, 22 euro. Un'operazione interessante è questa in tempi nei quali sentiamo spesso confusamente un anelito spirituale al quale non riusciamo magari a dare risposta, quello che Nicolini Zani definisce l'urlo di una nostalgia sommersa dai rumori del mondo e dagli affanni della vita. Il richiamo, aggiunge, di una profondità interiore che si traduce in uno sguardo contemplativo sulla realtà, il che non stupisce perché meditare fa parte della natura dell'uomo e dunque la meditazione, aggiunge, contribuisce all'umanizzazione dell'essere umano. E proprio questa esigenza spiega come la meditazione abbia assunto un ruolo importante nella spiritualità di oggi e favorito un incontro tra Oriente e Occidente, come gli autori qua ci spiegano. Maestro di meditazione naturalmente sono i monaci, i quali anch'essi si saranno scontrati con un rischio gravissimo nell'esercizio del loro mestiere, quello di meditare, e cioè il rischio della distrazione. Come facevano a resistere i monaci delle fiorenti comunità medievali a questa tentazione? Ce lo spiega la storica americana Jamie Kreiner, esperta del mondo medievale, nel libro La mente vagabonda. Cosa ci insegnano i monaci medievali sulla distrazione? Pubblicato dal saggiatore, 378 pagine illustrate, 25 euro, e tradotto da Luisa Agnese dalla Fontana. Qualcosa possono dire, in effetti, i monaci del Medioevo, a noi poveri umani sballottati in quello che appunto chiamiamo età della distrazione, la quale i continui impulsi ricevuti non ci permettono di soffermarci un momento per analizzare, per riflettere, per meditare appunto. Ma nulla di nuovo sotto il sole. Anche i monaci si distraevano e facevano di tutto pur di non cadere nella tentazione della distrazione per combattere. Anzi, scrive Kreiner, per quanto ammettessero che la distrazione è un difetto congenito alla natura umana, combatterla diventò una sorta di identità professionale. E anche l'autrice fa un parallelo con le esperienze dei monaci buddhisti, che magari apparivano più fatalisti e meno preoccupati della distrazione. Ne deriva da tutto ciò un libro sorprendente, affascinante, capace di farci riflettere sulla nostra condizione di perenne distrazione, contro la quale anche i libri possono offrire un'arma. Ma per meditare ci possono venire in aiuto anche i poeti, per esempio il grande Giacomo Leopardi, sul quale Marco Antonio Bazzocchi, docente di letteratura moderna e contemporanea all'Università di Bologna, pubblica Spalancare gli occhi sul mondo. Dieci lezioni su Leopardi, pubblicato dal Mulino, 238 pagine, 18 euro. Queste dieci lezioni non sono ispirate da, ma dedicate a Giacomo Leopardi. Quello che Bazzocchi ci invita a seguire spiega è un percorso, anzi dei piccoli percorsi da fare senza farci condizionare dalle antologie, dai commenti, dai luoghi comuni, dai riciclate, da bla bla manualistici. No, quello che siamo invitati a fare è un viaggio da compiere con le nostre forze, con i nostri bagagli, con i nostri rifornimenti, per osservare i testi. E il viaggio inizia la poesia che probabilmente conosciamo tutti, l'Infinito, scritto da Leopardi, 21enne. Le riflessioni a riguardo, in questo caso, inducono l'autore a meditare e farci meditare sul significato della letteratura, la cui funzione non può essere alternativamente quella di divertire, ovvero di aiutarci come sollievo. Leopardi, negli anni in cui scrive l'Infinito, elabora, scrive l'autore, una visione dove l'uomo ha uno spazio molto limitato, ridotto a proporzioni esigue e non esaustive. E in questo ambito Leopardi capisce la funzione sempre più debole dell'attività poetica e della letteratura in generale, pur mantenendo la poesia ai suoi occhi, un potere immenso, quello di metterci in comunicazione con aspetti del mondo, altrimenti trascurati. Le altre riflessioni sono spesso sorprendenti, come quelle che ci fanno scoprire un lato addirittura comico di Leopardi, o ci riportano all'attualità come quelle ispirate alla ginestra, sull'impegno ecologista rappresentati dai giovani. Una volta forse meditare era più facile, per molti bastava andare in chiesa. Oggi la secolarizzazione offre meno certezze e rende la pratica religiosa sempre più evanescente. E infatti la messa esbiadita titola il libro di Luca Diotallevi, un sociologo, sottotitolo alla partecipazione ai riti religiosi in Italia dal 1993 al 2019, pubblicato da Rubettino, 122 pagine, 13 euro. Non è probabilmente vero che il Covid, come alcuni ritengono, abbia dato un'ammazzata definitiva alla partecipazione religiosa, scrive lo studioso, nel senso che il trend alla fuga dalla chiesa era iniziato già ben prima. E questa tendenza, che si è sviluppata appunto nel periodo considerato dell'autore, è quello che studia la ricerca. Ne emerge che la partecipazione alla messa riti religiosa è in calo, seppure il declino sia mascherato dall'invecchiamento della popolazione e che se diminuisce la partecipazione religiosa in proporzioni maggiore del calo del clero secolare. E fra l'altro il calo è molto più forte tra le donne. Inoltre questa diminuzione va di pari passo con il calo di alcune forme di partecipazione sociale. E allora, riprendendo un tema sfiorato in apertura di questa parte, cioè il moltiplicarsi di forme spirituali, Dio Taglievi si chiede se le nuove offerte religiose e tra loro la nuova spiritualità vivano solo consumando l'enorme eredità religiosa ancora disponibile, senza ricostituirle, dunque autodestinandosi all'estinzione, intanto alla subalternità sociale, oppure costituiscono e stanno costruendo i presupposti per una successione alla religione. E a questo punto... Considerati gli argomenti di cui abbiamo parlato vi segnalo il Cruci Puzzle Giochiamo con la Bibbia tradotto dall'originale pubblicata da una casetrice danese specializzata nella pubblicazione di libri per bambini tratti dalla Bibbia. I testi sono di Andrew Newton, l'illustrazione di Gavin Scott, la traduzione di Nora Tavelli, gli editori sono i Paolini, le Paoline, 85 giochi troveremo quindi in questo libro adatto a qualche finale momento di quiete estiva. Prima di salutarci, ricordo che giovedì 29 riprende a Roma l'iniziativa della Fondazione De Sanctis, capolavori della letteratura. Si tratta di un'iniziativa in collaborazione con le biblioteche di Roma che coinvolge alcuni importanti scrittici e scrittori che raccontano romanzi e autori. L'iniziativa procede in alcune biblioteche sino al 15 ottobre, il calendario completo lo trovate sul sito della Fondazione De Sanctis. Giovedì, Donatella di Pietrantonio, fresca di Premio Strega, parlerà del posto della scrittrice francese a Nierno, premio Nobel 2022, pubblicato in Italia da Orma con la traduzione di Lorenzo Flabbi, 114 pagine, 13 euro. L'incontro si tiene alle 19.30, in questo caso alla Casa della Letteratura in Piazza Orologio. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione Filippo Aureggi, regia. Vi ricordo del nostro indirizzo di posto elettronico, librochioccio, radio24.it e il nostro sito www.radio24.it dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima. Grazie a tutti.